Il Campobasso cade clamorosamente 4-1 in casa contro la Recanatese. Partita mai giocata dai rosso-blu che alzano bandiera bianca dopo aver subito il raddoppio ospite. I play-off a questo punto diventano quasi una chimera. Discorso diverso per gli ospiti che fanno un bel balzo in classifica generale. Decide un poker dell'attaccante lucchese Manuel Pera. Giornata memorabile per lui si gioca di fronte a circa 500 spettatori. Un gruppetto proviene da Recanati. Al quinto Marchigiani in vantaggio Gerardi cade ostacolato da Candolfi il quale va a servire sulla corsa Pera. Tenuto in posizione regolare da Benvenga il vantaggio della Recanatese ma è evidente il pasticcio Campobassano. Male la squadra di Foglia Manzillo dei primi minuti. I rosso-blu protestano al decimo per una mano di troppo che forse scappa a Rinaldi dopo pallone smistato dal fondo da Strianese. L'arbitro di Giovanni di Caserta fa correre. Recanatese è sciolta. Al tredicesimo sarebbe doppietta di Pera e due a zero ospite ma l'attaccante Recanatese viene pescato in offside dopo cross di Guida. Gol annullato. Al quarto d'ora tiro non insidioso da distanza importante di Falco. Para in due tempi Landi risposta di Carbò qualche secondo più tardi con una conclusione che non può sorprendere Piangerelli. Al diciannovesimo calcia abbondantemente fuori Gerardi quest'ultimo. Ci prova anche al ventiseiesimo ma va troppo centrale. Presa non difficile per Piangerelli. I rosso-blu provano a scuotersi al ventotesimo. Davvero bravo Benvenga nella preparazione al tiro. Sfortunato nella conclusione che sbatte contro la traversa. Il difensore di casa avrebbe meritato miglior sorte. Breck Recanatese al trentacinquesimo in verticale da Guida Pera. Sortita da lontano la palla si spegne sul fondo. Pericolosi giallorossi quando sono in grado di verticalizzare. Incredibile. Al trentasettesimo Benvenga. Di testa e stromette dal fuorigioco involontariamente l'avversario Pera. Sembra un raddoppio certo ma Landi è in vena di miracoli come ogni domenica. Benvenga allarga le braccia a gesto teso a chiedere scusa ai suoi compagni di squadra. Benvenga però è protagonista negativo anche al quarantesimo. Quando ferma in maniera certamente fallosa Guida che imperversa palla al piede di Giovanni di Caserta. È a due passi ed indica il dischetto dagli undici metri. È Pera a realizzare con grande precisione. Parziale giusto Campobasso frastornato ed irriconoscibile. Al quarantatresimo punizione di Gerardi non ci arrivano in tanti fra cui da ultimo Augustus Cargbo. Scioccante il primo tempo. Campobassano condito anche dal Tris. Ospite al quarantacinquesimo da corner. Stacca Pera in area con inaudita facilità. È 3 a 0 per la Recanatese. E la prossima.